Si chiama Siamo, sicurezza, ambiente e mobilità, del piano di raccolta differenziata elaborato dall'assessorato del Comune di Campobasso. Obiettivo potenziare il riciclo dei rifiuti che nel capoluogo registra una percentuale bassissima, il 13,3% ben lontano dal 65% chiesto dall'Europa. Nel corso della conferenza stampa a Palazzo San Giorgio, l'assessore Ramundo e i vertici della SEA hanno illustrato il nuovo piano che prevede la suddivisione della città in cinque zone, centro storico, centro murattiano, contrade, quartieri e grandi utenze. Lo scorso 6 dicembre all'interno del centro storico è partita l'attività di censimento e informazione per i cittadini. Lì saranno sistemati gli ecotop, aree per il conferimento dei rifiuti differenziati dove i residenti della zona aiutati dalle guardie ecologiche potranno portare i rifiuti. E proprio in corrispondenza delle aree di conferimento che si trovano all'altezza delle sei porte del centro storico e della chiesa di San Giorgio, saranno installate le telecamere con l'obiettivo di verificare le corrette operazioni di conferimento. Dopo il centro storico sarà la volta dei quartieri e delle contrade dove il servizio sarà porta a porta. Secondo le stime dell'assessore Ramundo l'intero piano sarà attuato entro il 31 dicembre del 2017 a disposizione del comune di Campobasso oltre 5 milioni di euro. Non solo rifiuti, l'amministrazione è in cantiere il progetto per la riorganizzazione della segnaletica e la messa a dimora di 60 alberi per migliorare l'aspetto di quella che un tempo fu la città giardino.